Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da oggi ci sarà il nostro conteúdo di un momento sponsor dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video dove potete andare su questo sito www.eneba.com slash it dove potete comprare le vostre Steam Key oppure la Playstation Key le Playstation Card i buoni Amazon i Fortnite V-Bugs i FIFA Points oppure anche i mesi di Spotify l'abbonamento a Netflix oppure se volete comprare qualsiasi gioco ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi come questo Doom Eternal ragazzi a 14,15€ vi comprate il gioco con Paypal che è un ottimo acquisto e vi arriva tramite mail la vostra chiave in digitale dove potete riscattare su Steam che poi oltre a questo ragazzi ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso ci sono anche altri giochi come l'FC25 dove potete riscattarlo anche su Playstation Store ve lo comprate tramite il sito di Eneba ragazzi e supportate me e il canale e niente ora vi lascio al video ciao a tutti belli ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti a tutti a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti